A Pescara, nell'officina del senatore PD, Luciano D'Alfonso ha presentato l'evento istituzionale di venerdì 25 febbraio alla presenza del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che si trarà in comune a partire dalle ore 16. Il ruolo della città nuova dalla pandemia Covid-19 al processo di fusione, preteso da 100.000 autoconvocati adriatici a sostegno delle ragioni della nuova Pescara, scrive D'Alfonso e nel corso della conferenza stampa si è fatto il punto anche su aree di risulta, principali investimenti per la città e il tanto discusso progetto del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Certo, noi siamo alle prese con la città nuova di Pescara, ma siamo alle prese anche con un grande appuntamento. Le risorse irripetibili del PNRR e poi problemi storici che attalagliano questa città Pescara, le altre città abruzzesi e anche quelle italiane. Ora dobbiamo coniugare consapevolezza, abbondanza di risorse, di strumenti finanziari e anche strumenti normativi e cercare di cogliere questa occasione per risolvere tutte le partite problematiche che abbiamo ereditato dal passato. Faccio un esempio. La Pescara-Roma ferroviaria non è vero che purché si faccia va bene, come sostengono alcuni condonisti. Noi dobbiamo fare in modo che quest'opera sia la migliore possibile perché sono irripetibili queste opportunità. Non è vero che prima sbagliamo e poi dobbiamo impiegare i prossimi 30 anni a cercare di trovare rimedio. Abbiamo già dei monumenti dell'errore in Abruzzo all'insegna di questo modo di procedere. Allora al ministro Giovannini chiederemo che il progetto sia di qualità e che non sia fatto da Google e su Google perché i poteri straordinari del commissario ci consentono di correggere senza perdere tempo. Secondo, le aree di risulta non sono ripetibili a Pescara. Quelle sono 129.000 m2. Non possiamo sbagliare. Il Palazzo della Regione deve generare dove si fa un nuovo centro. Quando nel 1993 l'allora giunta Pace e anche l'allora giunta regionale e l'allora giunta provinciale concordarono che fosse il quartiere 3 la sede del Palazzo della Regione era non perché si aveva in antipatia il centro di Pescara ma per fare in modo che il Palazzo della Regione portasse con sé riqualificazione, rigenerazione. Inoltre, prosegue D'Alfonso, ci sono altre partite significative come la qualità del fiume Pescara il sistema idrico della città che va ulteriormente potenziato con le risorse dice che ho lasciato come presidente della Regione 50 milioni di euro altra questione, spostare le carceri l'aeroporto militare che va rimesso in discussione perché servirà a quello civile e l'ex cofa Insomma, detto D'Alfonso, sarà un incontro a tutto tondo quello di venerdì con il ministro Giovannini a cui prenderanno parte anche i rappresentanti delle ferrovie dello Stato di Terna e altri relatori di spessore